siamo in via cappuccina questa è la bellissima mimosa che si trova nei pressi dei giardinetti della giulio cesare e che in vista dell'otto marzo viene depredata diciamo dei dei rami per poi vendere i fiori ai bordi delle strade per l'otto marzo i cittadini hanno fatto una raccolta fondi spontanea per pagare la vigilanza privata le due notti precedenti all'otto marzo e ci saranno anche i cittadini qui a difenderla sono stati attaccati anche dei cartelli per spiegare l'iniziativa che si ripete ogni anno solo quest'anno non più nella diciamo pianta di mimosa vicino diciamo alla confluenza con via tra via cappuccina e via tasso ma proprio in questa di fronte a due parti della giulio cesare